Buongiorno, benvenuti all'Università Nuova di Lisbona. Siamo qui per la conferenza sulle non monogamie e le intimità contemporanee. In realtà non è il primo evento nel suo genere in Europa, però erano dieci anni che non ce n'era una conferenza come questa. In generale è tutto un po' accademico, però noi siamo qui per cercare di avere delle interviste con la gente che farà le conferenze in maniera di portare a voi un contenuto un po' più digerito, un po' più leggero. Non vi dimenticate di controllare nella nostra info il link per guardarvi le dirette che saranno streamate dall'organizzazione della conferenza per i keynote speeches e altro contenuto molto rilevante. Noi intanto vi daremo un contenuto esclusivo e delle interviste. Ci saranno conferenze di accademici di tutto il mondo. Abbiamo gente arrivando da Australia, Cina e sicuramente dagli Stati Uniti. Abbiamo anche delle grosse personalità come Peppermint, Victoria Rosa e Mac John Barker. Rimanete con noi per tutto il contenuto.